sono le 15 e 20 del 16 e vera 2023 mentre sto scendendo dalla grotta su un lambo che qui si sta a 70 minuti di distanza lungo il sentiero ammirate gente le meraviglie della natura guardate qui devo tornarti ecco una serie guardate qui dopo centro adesso scendo giù ecco qui con calma ecco la fanno montare di qua deve stare a parte sottostante veramente incandevole mica si piglia la borsa no ecco qui questo è magnifico guardate che roccia sicuramente la prossima 8 ci torno è piena di rocce e c'è qualche grotta certamente è questione di tempo è questione di altri sopralluoghi dalla parte di Tommaso qui ecco adesso la prendo il mio zaino ecco qui e li scendo sotto bella giornata oggi ok